La bollitura era una punizione lenta e agonizzante. In questo metodo la vittima veniva gradualmente calata o gettata in un grande recipiente con olio bollente, acqua o persino vino e piombo fuso. Se lo shock del dolore non faceva perdere immediatamente i sensi, la persona provava la sensazione straziante di avere gli strati esterni della pelle completamente distrutti dalle ustioni da immersione, seguite dal cedimento totale degli organi, che alla fine venivano cotti dal calore. Un destino raccapricciante che si supponeva fosse riservato al peggiore degli assassini, ma i documenti storici smentiscono questa idea. Si dice che l'imperatore Nerone abbia annientato migliaia di persone in questo modo e nel Medioevo i principali bersagli della punizione non erano gli assassini, ma i falsari di monete, soprattutto in Germania e nel Sacro Romano Impero.